Il presidente Marsilio è l'assessore ai trasporti da Nundis. O si risolve davvero il problema del trasporto pubblico regionale o altrimenti le persone si dovrebbero dimettere, a mio avviso. Carenza di personale, mezzi obsoleti e corse saltate. Continuano le polemiche riguardo la gestione del trasporto pubblico abruzzese. Il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari ha ispezionato la situazione. La giunta dovrebbe dimettersi, ha detto il pentastellato. In solo i tre giorni, dal 3 al 5 febbraio, sono saltate 50 corse nella provincia di Pescara che hanno interessato nello specifico i comuni Pescara, Pianella, Cepagatti, Cappelle e anche corse che vanno a Ortona. Potete immaginare quanti ragazzi minorenni che dovevano andare a scuola sono rimasti a piedi e quanti lavoratori pendolari sono rimasti a piedi. La cosa gravissima è che solo questo dovrebbe far dimettere la giunta regionale, perché la giunta regionale si occupa di trasporto pubblico, governa il trasporto pubblico e non erogare un servizio significa farsi indietro. Ma non solo, abbiamo denunciato criticità all'interno dei pullman, le obliteratrici che non funzionano si sfasciano frequentemente, i pullman sporchi, i pullman che escono con le spie rosse accese, l'abbiamo visto stamattina, l'ennesimo pullman che si è sfasciato qui in stazioni. I bandi attualmente programmati non sono la soluzione, fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori denunciando i tagli al costo del personale. C'è bisogno più che altro di una costante e continua inversione di tendenza, non si può continuare a gestire l'azienda rincorrendo il continuo la chimera di abbattere i corsi del personale. I costi del personale non possono essere abbattuti costantemente, il personale ha una dignità e questa dignità purtroppo non si può abbattere. Chiediamo delle risposte certe, le belle parole le abbiamo ascoltate fin troppo, abbiamo bisogno di un confronto certo e risposte concrete da parte delle istituzioni e dei vertici aziendali.